Ciao tifosi del Milan! Oggi abbiamo una notizia che segna la fine di un'era per il nostro amato club. Dopo l'addio del leggendario Paolo, è ora di salutare anche Daniel Maldini, che sta per lasciare definitivamente il Milan. Dopo alcune intense settimane di trattative, è stato finalmente raggiunto un accordo. Daniel Maldini sarà un giocatore del Monza, ma questa volta come proprietà permanente della squadra di Brianza. Il centrocampista offensivo, cresciuto nel settore giovanile del Milan, è attualmente negli Stati Uniti con i rossoneri, ma tornerà presto in Italia. Secondo le informazioni della Gazzetta dello Sport di questa mattina, il trasferimento dovrebbe essere concluso per un valore vicino ai 3 milioni di euro. Questa mossa segna non solo la transizione di un giovane talento verso un altro club, ma anche la fine di un legame diretto con una delle famiglie più iconiche del Milan. È, senza dubbio, un momento emozionante e significativo per tutti noi. Allora, voglio sapere da voi, tifosi, come vedete questo cambiamento? Daniel Maldini ha tutto per brillare al Monza come ha fatto suo padre al Milan? Lasciate i vostri commenti qui sotto, e non dimenticate di mettere mi piace al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento. E allora, qual è la vostra opinione sul futuro di Daniel Maldini fuori dal nostro club?